L'iniziativa di domenica è un'iniziativa che si inserisce in un programma nazionale ACI storico, è il registro italiano dell'Automobile Club d'Italia che ha scelto Arezzo, unica tappa in Toscana, per fare un evento molto particolare, Ruote nella storia. È un'iniziativa particolare perché raccoglie tutti gli appassionati di auto d'epoca, ma in un contesto particolare, nel contesto di uno dei borghi più belli d'Italia. La Citalia ha scelto proprio questa zona della provincia di Arezzo come tappa per un evento di questa rilevanza. Il programma è un programma molto interessante e soprattutto è stato molto gradito perché sono stati raggiunti oltre 70 partecipanti, che è un successo autentico perché è veramente la dimostrazione di come un evento di questa rilevanza è stato compreso e ha avuto successo.